Bene, siamo arrivati alla fine, si conclude la Coppa del Mondo di Paraciclismo che ha visto interessati i comuni di Maniago e di Montreale in un bellissimo percorso. Ecco, la grande soddisfazione delle amministrazioni comunali è quella di aver concluso questa bellissima manifestazione con nessun incidente, quindi molto 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 bene. Siamo veramente tutti molto emozionati per questa grande avventura che abbiamo affrontato e abbiamo portato a termine in questi giorni.